Buongiorno Italia Buongiorno, io sono Amal Khatib, studio informatica nell'Università Islamica di Gaza. Sono in Italia per un semestre di scambio Erasmus e faccio parte del progetto Romano. Io sono Ivana Mahfoud, studio nell'Università Tecnica di Palestina, Kaduri. Sono qui nell'Università di Parma per un semestre. Sono Ran, studio Ingegneria e informatica nell'Università di Kaduri. Sono a Parma per un semestre come studentista di Erasmus e Romano. Buongiorno. 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 Buongiorno.